salve a tutti eccomi tornata con un mini mini video di tre cose acquistate ieri su amazon dell'ultima ora diciamo così che riguardano appunto il mio nuovo hobby diamond painting e allora ho acquistato senza che ve lo tiro fuori dalla busta perché è un po' un problema poi purtroppo metterlo dentro acquistato questa tela con questo bufo che questi gufetti che non si vedranno mai al mondo ok è un 30 x 40 è tutto qui dentro con le solite cose la vaschetta la pennina la cera e la vaschettina insomma dove mettere dentro i diamantini appunto i diamantini poi ho acquistato quest'altro diamond painting scusate balla tutto sempre 30 x 40 ma questo proprio veramente non so come farvelo vedere vediamo un attimo perché alcuni poi rimetterli dentro sono preoccupanti vediamo se riesco molto bene non c'è neanche un disegnino no vabbè adesso ve lo apro me ne apro un pezzo è questo lupo con la luna che non si vede bene però vabbè è un lupo con la luna e anche qui dentro ci sono sempre le diamantini la pennetta il vassoietto la cera per i diamanti poi l'ultimo acquisto ma questo lo metto dentro dopo ho acquistato questa vaschetta cioè vaschetta questa valigetta diciamo così per metterci dentro tutti i diamantini avanzati sono scatoline così trasparenti e che si aprono così come le caramelle si chiudono si mettono i diamantini all'interno quelli diciamo avanzati e hanno l'adesivino da scriverci sopra il numero e da attaccare appunto nella scatolina niente al momento questi sono stati i miei mini mini acquisti come vi avevo detto prima non credo di farne altri nell'immediato ma comunque appena farò altri acquisti ve li carico anche perché mi deve arrivare qualcosa da aliexpress ma si sa che ci vuole una vita e mezzo e dovrei riuscire credo questa settimana fare qualcosa in resina perché come avevo detto ieri nel video di ieri appunto acquisti ho comprato la resina quindi credo di fare qualcosa e la faremo lo scopriremo insieme per questo per questo questo video è tutto ci si vede alla prossima ciao ciao